Ancora una volta il tema dell'università nella sostenibilità diventa focus fondamentale per lo sviluppo delle università e dei luoghi e dei territori dentro cui esse operano. Importante è stato anche l'intervento del sottosegretario Friamonti che si è collegato e ci ha dato anche davvero una conferma della giustezza della strada che abbiamo intrapreso. L'importanza di fare rete su questi temi è la consapevolezza che il 2030 è molto vicino e quindi ci resta pochi anni per imporre delle scelte che siano davvero sostenibili. Importante è stato anche farlo in un territorio che ha delle grandi criticità ambientali come Bari, come la Puglia in particolare, nell'ambito delle quali però il Politecnico e le altre università lavorano con grande interesse e con grande attenzione per risolverli effettivamente. Le università hanno costituito una rete delle università sostenibili per promuovere le politiche delle sostenibilità sia all'interno delle proprie istituzioni sia nel rapporto con le comunità territoriali, in particolar modo con le istituzioni territoriali, i comuni, la regione e più in generale anche gli aggregati urbani. Credo che l'occasione sia stata particolarmente proficua per approfondire le diverse tematiche che caratterizzano i temi della sostenibilità, l'educazione ambientale, la didattica per la sostenibilità, la governance, quindi le politiche attive per la sostenibilità, il rapporto sinergico tra istituzioni che deve far evolvere anche quell'external leadership, cioè quella capacità di governare i processi di cui avvertiamo un'assoluta esigenza. Fare sviluppo sostenibile non è una cosa semplice, significa guardare allo sviluppo non solo dal punto di vista economico ma complessivamente per lasciare un mondo anche ai cittadini che verranno. Le università hanno un ruolo fondamentale in questo e io dico, parlo sempre di sistema universitario nazionale, quindi dal profondo sud fino al nord le università sono un presidio, un presidio di conoscenza, di cultura, quindi che formano i nostri giovani per il lavoro ma io dico soprattutto formano dei buoni cittadini, dei cittadini consapevoli con un proprio spirito critico che sanno discernere tra tutto questo eccesso di informazioni e di immagini che oggi è anche la rete e che quindi che sanno scegliere e sanno capire. Il tema che abbiamo trattato è un tema importante che riguarda le città. Abbiamo tante reti che ragionano sulle città, abbiamo Urbanit, abbiamo le reti delle città che hanno siti UNESCO, quindi che promuovono il territorio, che promuovono la cultura, i beni culturali e tante altre all'interno dell'università. Questo è un metodo corretto, cioè quello di condividere, di andare avanti tutti insieme nella stessa direzione per lo sviluppo di questo Paese e soprattutto per lo sviluppo dei nostri territori che sono dei territori fragili economicamente, infrastrutturalmente e che quindi hanno assoluta necessità del lavoro delle università. Lo sviluppo sostenibile è un nuovo paradigma e può essere anche una fuzzy world, come si dice, cioè piuttosto vaga, però nel 1987 il rapporto Brundtland l'ha definito molto bene. È quello sviluppo che consente alle generazioni presenti di poter soddisfare i propri bisogni, ma anche le generazioni future. Purtroppo le generazioni future hanno dei bisogni che non sono noti, c'è una realtà che è continuamente dinamica ed è difficile da definire. Proprio per questo le università con la loro capacità di innovazione e di dare formazione alle nuove generazioni possono essere un motore importante. La rete delle università per lo sviluppo sostenibile è stata promossa da un pool di università tra cui il Politecnico di Torino, proprio con il ruolo di realizzare una network, un sistema, una piattaforma di lancio e di supporto a tutte le attività e iniziative che le università fanno a livello nazionale nell'ottica dello sviluppo sostenibile, del contributo che può essere dato allo sviluppo sostenibile. È chiaro che una rete rispetto a un'università ha maggior forza. Il ruolo che le università hanno all'interno dei territori e delle città proprio per lanciare, per rilanciare questo importante paradigma dello sviluppo sostenibile è fondamentale. I territori e le città senza le università sono più deboli da questo punto di vista perché le università si sa con il fattore dell'innovazione, dell'educazione e della propria missione verso la società, dell'impatto che possono avere sulla società è fortissimo il ruolo che possono giocare. Proprio per questo connubio, questa sinergia tra le università, le città e i territori che questo convegno è stato fondamentale. Fondamentale è anche la RUS che nell'occasione del convegno ha avuto un'assemblea per il rinnovo delle cariche per continuare ad essere di supporto per le università a livello nazionale, per le città e per tutte le generazioni future. Portare un paese come l'Italia su un sentiero di sviluppo sostenibile richiede tre passaggi fondamentali. Tecnologie adeguate, una governance dei sistemi complessi e un cambiamento di mentalità. Su due di questi tre aspetti, in realtà anche sul terzo, le università possono dare un contributo fondamentale. Perché? Attraverso l'educazione allo sviluppo sostenibile, ma non solo attraverso le lezioni, attraverso la pratica, vuol dire gestire dei fiuti in maniera sostenibile, vuol dire definire una mobilità degli studenti ad esempio in modo sostenibile. Si passa una cultura diversa, le nuove generazioni sono molto più aperte su questi temi e dunque l'università diventa un luogo privilegiato e non a caso nel recente festival dello sviluppo sostenibile le università hanno organizzato quasi 300 dei 700 eventi che hanno animato l'Italia per 17 giorni. Il secondo aspetto ha a che fare con la tecnologia. Nelle università si fa tantissima ricerca e quello che manca però spesso è il trasferimento di queste conoscenze al mondo locale, la cosiddetta terza missione dell'università. Bene, le università attraverso lo sviluppo sostenibile trovano un quadro di riferimento nel quale operare a contatto con le amministrazioni, con le imprese, anche con il mondo del terzo settore. E poi la governance. La governance richiede un modo diverso di organizzare i rapporti tra le regioni, i comuni, le città e lo Stato naturalmente. Ecco dove le scienze politiche possono dare un contributo importante. Insomma le università fin dall'inizio le abbiamo immaginate come un luogo di competenze ma anche un luogo di trasferimento di competenze. Io guido il gruppo sull'educazione allo sviluppo sostenibile. Molte iniziative stanno partendo in tutte le università e speriamo che l'anno accademico 2018-2019 veda proprio un salto di qualità. Tra l'altro è importante sottolinearlo. La RUS, la rete delle università per lo sviluppo sostenibile che abbiamo creato in Italia è una best practice internazionale. Non c'è nessun altro paese al mondo dove le università si sono messe insieme a lavorare così. Insomma una grande sfida ma anche una grande opportunità per fare delle università quello per cui le università sono state create. Un centro di competenza, di trasformazione del territorio e lo sviluppo sostenibile è il quadro giusto in cui realizzare questo cambiamento. Il risultato è veramente notevole perché siamo 58 Atenei quindi la rete è cresciuta in questo triennio. A Bari decliniamo per la prima volta l'assemblea con una parte anche di riflessione scientifica. In queste sale ci sono tre workshop paralleli e le università portano le loro esperienze, le scambiano, le confrontano tra di loro e quindi qui al Politecnico l'appuntamento è un appuntamento importante perché dal sud si ricomincia per ragionare sui 17 goals dell'agenda 2030. C'è una definizione che è nota a tutti di equità transgenerazionale per il quale pur sviluppandosi i territori lasciano le generazioni future, un patrimonio pari a quello che hanno trovato se non addirittura migliorato. Però oggi il concetto proprio in agenda 2030 si è reso molto complesso. Io posso dire che i 17 goal banalmente attraversano tutti i grandi problemi della contemporaneità e la città come noi col titolo della nostra assemblea abbiamo voluto dare è il luogo in cui siccome le contraddizioni sono più forti però ci sono anche le risorse per confrontarsi e competere con queste contraddizioni. C'è il goal 11 che ce lo dice, è una città in cui dissipare meno risorse, chiudere i cicli, il ciclo dei rifiuti, il ciclo dell'acqua, consumare meno suolo, avere una mobilità. Oggi i colleghi mi dicevano che è bello, in aeroporto a Bari arrivo con un trenino subito alla stazione centrale, dalla stazione centrale o a piedi o con un bus pubblico posso arrivare. Questo è un passo avanti che ha fatto la nostra città in una direzione di sostenibilità. In questo momento riteniamo che le università devono necessariamente aprirsi al territorio, debbano lavorare in stretta collaborazione con le amministrazioni locali ma anche con i cittadini e le potenzialità per fare questo ci sono, dobbiamo semplicemente riuscire a tradurre tutto quello che viene fatto, svolto in termini di attività di ricerca all'interno delle università e portarlo all'esterno. In più la rete ha la grossa ambizione di mettere appunto insieme tutte, se possibile, le università italiane all'interno di una unica strategia per lo sviluppo sostenibile e l'ambizione primaria è quella di riuscire a portare un contributo sostanziale all'implementazione dei 17 obiettivi per lo sviluppo sostenibile promossi nell'agenda 2030. La rete dell'università per lo sviluppo sostenibile, RUS, associa a più di 50 università italiane che sono tutte collocate nel cuore di altrettante città. L'Italia è il paese delle città, le città per l'Italia sono molto importanti e non c'è sviluppo sostenibile possibile senza città sostenibili. L'anno scorso a Bologna, in occasione del G7 sull'ambiente, i sindaci delle città metropolitane italiane hanno firmato un documento molto importante, si chiama Carta di Bologna per l'ambiente, che prevede che ciascuna città metropolitana si doti di un'agenda metropolitana per lo sviluppo sostenibile. La cosa sta accadendo, è accaduto a Bologna, sta accadendo a Bari, anche a Torino si sta andando avanti in tante altre città. Contemporaneamente l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani ha adottato un altro progetto, sempre sullo sviluppo sostenibile, per cercare di estendere il concetto di sostenibilità oltre al più importante campo ambientale, anche al campo sociale, economico e quant'altro. Il 25 maggio di quest'anno Urbanit, l'Alleanza per lo Sviluppo Sostenibile, ASVIS, ha organizzato una giornata sulla sostenibilità nelle città, dove è stata lanciata la parola d'ordine dell'Agenda Urbana per lo Sviluppo Sostenibile in Onnicità Italiana.